Sarà sempre più cittadina la novena della Madonna del Popolo che inizia sabato 2 settembre in cattedrale, nel senso che quest'anno coinvolgerà molte parrocchie di Verona che animeranno le serate di preghiera per i fedeli. La novena partirà in maniera solenne sabato prossimo e vorrà essere un momento di preghiera corale di tutta la città per il cantiere, non tanto quello edile che abbiamo in cattedrale per ristrutturarla, ma un cantiere di preghiera per una chiesa in uscita capace della formazione della novità delle unità pastorali. Pregheremo con le parrocchie del centro storico, saranno loro che a due a due ogni sera animeranno la preghiera e anche commenteranno un brano del Vangelo e delle Vangeli Gaudium, proprio per poter dire che incominciamo a stare insieme, a pregare insieme e a pensare anche insieme. L'appuntamento è in cattedrale tutte le sere alle 20.45 fino a 7 settembre. Venerdì 8 settembre, festa della Madonna del Popolo, alle 18.30 si terrà il Pontificale del Vescovo. Alle 21 al Teatro Romano lo spettacolo dedicato a te, che sarà trasmesso in diretta da Telepace. La cattedrale sta vivendo un momento di rifacimento del tetto per la messa in sicurezza. A che punto sono i lavori? I lavori sono già partiti da quattro mesi e davanti ne abbiamo ancora altri tre di fatica per l'ospitalità del momento di preghiera. Comunque stanno procedendo molto bene, il cronoprogramma che era stato stabilito si sta rispettando. L'ammaloramento del soffitto era abbastanza evidente. Per fortuna quindi siamo intervenuti. Questo mette in sicurezza i fedeli e anche i visitatori della cattedrale. Siamo quasi sicuri che prima di Natale riusciremo a riavere completamente in una bellezza ancora più splendente la nostra cattedrale. La novena della Madonna del Popolo è da tanti anni che richiama i veronesi fedeli. In che modo Verona ha bisogno di mettersi sotto la protezione della Madonna del Popolo? Aggiungerei che quello che mi stupisce in questi giorni di grande turismo e di grande giro all'interno della cattedrale Pumori di Rifacimento mi stupisce perché anche tanti turisti che sembrano dall'abbigliamento e da tutto molto svagati in realtà li vedo fermarsi molte volte in preghiera davanti alla cappella della Madonna. Questa statua e questa cappella evidentemente invita al silenzio la preghiera e ad accendere un lumino. Ci stupisce questo. Tanto più i veronesi che io vedo alle volte furtivamente e velocemente, alle volte in maniera anche da donare tempo, si fermano davanti a questa effigie che ricorda secoli di preghiera. E credo che per tutti i veronesi, ma per tutte le donne e gli uomini del mondo, credenti o no, questa immagine della Vergine accogliente sia il segno della misericordia di Dio.